Sì, sono tutti uomini. Guarda il prego. Io non ho accortato la preghiera, ma ho avuto l'altra. Non c'è ancora, non lo fai. Pezza di libero. Non c'è ancora, non c'è ancora, non c'è ancora. Welcome. Sì, sono tutti da ricetto anche a te. In Cresci lo sapevamo già. Ma andiamo fuoco questo liceo. Perché distrugge quello che è che ho. Io tengo stretto quello che è mio. Andiamo insieme. Sì, sono tutti uomini. 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 Sì, sono tutti uomini.